Così, cioè Napoli è perfetta, sono partito da Napoli perché chi meglio di Napoli si vuole, cioè, come dire... È la città che si reinventa da sempre. All'evento di Napoli ho chiesto che mestiere fate, c'era, non so, l'odonto tecnico ristoratore, allevatore di piccioli, cioè, c'era di tutto, era un tesoro, però volevo partire da lì e poi alla fine non siamo riusciti a organizzare, insomma, però beh, è una bellissima esperienza, devo dire. Tu come stai? Beh, sempre sotto sopra, poi adesso con la situazione di questo governo è complicatissimo e poi sono contento appunto che adesso parte quest'altra serie perché sai, un motivo per cui mi piace particolarmente discuterne con te, tu ti ricordi che cos'erano le serie prima della... Cioè, le soppopere, quelle tristissime. L'Italia era destinata a quello, poi c'è stata questa, diciamo, il passo vero e cambiato il romanzo criminale, Stefano che fa quella roba lì e quando per esempio presento quel progetto di Gomorra, ma tu non hai idea, mi dicevano, non si capisce un cazzo, tutto in dialetto, sembra una roba magrebina, dicevano, queste facce, queste... Poi dicevano, ma non è Napoli, perché andavo nelle periferie, cioè, volevo il libro e quello che si andasse nelle periferie e che non ci fosse il solito gioco, cioè una scena in periferia, come si fa spesso, e poi tutto mare, golfo, vulcano, spesso è così nel giochino, cioè faccio finta che è periferia e poi tutto su un balcone, sul mare, grandi luci, diciamo, buio, cemento, catrame, addirittura ricordo che il film, quando andò il presidente napolitano a vederlo, c'era io, c'era Franco Rosi, il presidente disse, ma io non capisco questo dialetto, ma io sono napoletano, perché è trasformato. Io ho visto Inghilterra, cioè Gomorra ha avuto un successo clamoroso, in generale tu, cioè mia moglie, anzi, ora che ci penso, tipo un mese fa, non so quando è uscito l'articolo, mi ha detto, oh, listen to him, mi ha detto, non è che mi stai svelando, mi ha detto come dire, ma lo conosci, lo segui, lo seguo, non preoccuparti che... Bello, bello, no, sai, il successo internazionale della serie non era scontato, non è mai scontato, né il successo, né l'ascolto internazionale, e non è qui l'essere piagnoni italiani, è che è proprio complicato per un italiano, tante le ragioni, innanzitutto la lingua, mi spiego, sai benissimo, il mondo scandinavo, i paesi bassi, abituati all'inglese, e quindi le produzioni americane, le produzioni inglesi, quando arrivano in questi paesi, è casa loro, e viceversa, quando gli scandinavi producono libri o serie, entrano più facilmente nel mondo americano, non era così sempre, in passato l'altra lingua era accettata anche nel mondo anglosassone, adesso col web, inglese è inglese, quando qualcosa non è in inglese, fa strano, fa strano, cioè l'ora non è particolarmente bella, ma come fai a raccontare i ghetti parigini americani, o le organizzazioni criminali italiane, israeliane, russe, in inglese, per esempio Chernobyl, che è una bella serie, però in inglese, fa strano, no? Ma com'è? È un evento accaduto in Russia e tutti parlano inglese? Certo. E la cifra, per esempio, di far parlare in Gomorra tutto il dialetto, un dialetto stretto, e a volte, insomma, lo rendiamo più tondo, più comprensibile, però è autentico, e poi in 000 si va nel calabrese, lo spagnolo messicano, devi essere autentico, e quella autenticità arriva ancora prima della comprensione della parola, supera la fatica di dover leggere lì il sottotitolo, perché è la verità, senti che non c'è un trucco, c'è una rappresentazione, è stato difficile farla passare, era difficilissimo, perché il produttore vuol fare grano, è giusto così, ma quando c'è invece il pensiero di voler costruire qualcosa di bello, perché qualcosa di bello ti rende unico, e quindi vincente sul mercato, si aggiunge anche un'altra cosa, per me è difficilissima, e secondo me su questo mi puoi seguire nel senso che sei un divulgatore, io voglio mettere anche informazioni nelle mie serie, anzi nelle nostre serie, cioè non mi basta la storia, non mi basta la dinamica appassionante, la forza per esempio di Solli, ma di tutta la squadra degli sceneggiatori, è stata sempre quella di essere attenti all'azione, alla dinamica, sapendo benissimo che la mia ossessione è il racconto di come si fanno i soldi sulla coca, il messaggio, mi conta molto, cioè non mi sento sminuire il mio lavoro se a volte spingo su una dinamica che può sembrare didascalica, veramente non mi pongo il problema, so che le storie sono talmente forti, talmente incredibili, sai, raccontare la coca, veramente raccontare il mondo. Certo, a me scusami, una cosa che aveva colpito, non ho letto il libro tuo, però avevo visto una tua presentazione, credo qualche mese fa, dove appunto raccontavi alcuni aspetti, e un aspetto che mi era molto così piaciuto e interessato, su cui non mi ero mai fermato tanto a riflettere, era quando parlavi della parte, dell'impatto sull'imprenditore onesto, legale, nel momento in cui i soldi della coca vengono utilizzati per creare magari un ristorante, un albergo, che è un'attività legale e legittima, il problema è che stai finanziando, cioè il tuo venture capitalist in sostanza è un venture capitalist illegale e io, imprenditore e onesto, non ho accesso a quei soldi, quindi competiamo, è un po' come quando competi con Amazon, Google o questi, o una start-up americana che parte e ha 50 milioni, io parto e ho 100 mila lire, non siamo allo stesso livello, in quel caso invece è un finanziamento che arriva da una fonte illegale e questo impatta tutto, cioè cambia radicalmente e mi era molto piaciuta come osservazione. Questa è una delle mie ossessioni, cioè credere che il mercato illegale sia l'altro mondo è un errore madornale, il mercato illegale è solo un pezzetto del percorso legale, nessun imprenditore criminale si percepisce un criminale che poi per alcune ore o qualche mese diventa un buono, al contrario, è un imprenditore che sapendo come funzionano le cose, così se la raccontano, conoscendo, a volte dicono il valore delle cose, si usa l'espressione uomini d'onore infatti, deve accedere a una prassi violenta. E allora cosa succede? Che questa dinamica non riguarda soltanto i camorristi, gli indranghetisti o gli affiliati di Cosa Nostra, a tutti i livelli, cioè nel momento in cui, faccio un esempio, tu riesci ad accedere alle scarpe che vengono scaricate in quel porto senza essere sdoganate, tu puoi metterle al 30% di sconto. Ah beh, certo, certo. E quindi inizi a vincere. L'illegale è, c'era un bravissimo analista venezuelano, Moises Naim, che fece un libro che si chiama proprio illecito, dove diceva in qualche modo se noi togliamo l'illecito dal capitalismo oggi, entra in crisi tutto. E questo, infatti mi sono sempre trovato nella contraddizione di incontrare imprenditori poco attenti a queste dinamiche. Io dicevo, guardate che se non combattete questo tipo di cultura, che riguarda spesso anche il sistema dei fili bancari, faccio un raccolto velocissimo. A un certo punto, senza entrare troppo nei dettagli, nel sud Italia si deve aprire un centro commerciale, l'avrebbero chiamato il principe. Si presenta un imprenditore e questo imprenditore fa capire a una grande banca italiana che lui è vicino ai clan. La banca non ci crede, non gli dà il fido. Sarà un sottosegretario importante, insomma il processo che sta procedendo, a garantire che è un uomo del clan e gli viene affidato il fido. Perché l'organizzazione criminale in realtà è più affidabile rispetto a un'azienda. Perché i soldi che sta chiedendo servono per riciclare, non servono davvero all'impresa. Tu chiedi soldi, per esempio chiedi 5 milioni perché ce ne hai già 10, devi giustificare allo Stato quei 5, la banca che te li dà sa che ce li hai già. Questo ha avvelenato interi parti del paese. Poi scusami, l'organizzazione criminale rispetto all'Italia che è fatta di aziende per chi fa business che non paga mai o pagano a babbo morto, invece quando ha a che fare con un'organizzazione criminale paghi sicuro, non è che quella roba lì non succede. Per cui c'è questo paradosso dove l'affidabilità è ribaltata. Sono affidabili. E adesso per esempio che è il problema del Nord e diciamo in 0-0 ho provato profondamente a raccontare questo tipo di dinamiche, cioè l'azienda Decot, che sta iniziando a boccheggiare, non ce la fa più, però te la prendono. E siccome sanno che chi ha gestito l'azienda ha competenze, lo lasciano lì, allora tu che vedi che un'andrina ti sta comprando, ti lascia lì, fai le cose, inizi a vederla sotto un altro aspetto, inizi a dire ma questi credono in me. Chiaro. Fin quando c'è qualcosa che salterà, perché magari non hanno alcun interesse, iniziano a riciclare, perché poi succede sempre nel momento in cui ti svegli e capisci questi signori cosa sono. Però è, sai, la questione sulla coca, è un dato che ormai cito da anni, faccio sempre il parallelo investimento Apple, investimento coca, che è un parallelo che tra l'altro ha fatto la via italiana, l'antimafia italiana, e partiva proprio da Falcone che cercava di divulgare, con un'informazione che adesso ti do, il perché si arrivava a giocarsi la vita quando si è dentro il narcotraffico. E il dato è questo, come sai, mille euro se io investo in Apple dopo un anno mi arriveranno, boh se va benissimo, nuovi tablet a mille due, mi tornano dopo un anno? Deve andare. Coca dopo un anno investo mille, mi tornano 182 mila euro, 182 mila euro. E tra l'altro questo è un dato di qualche anno fa, adesso di più. Solo che qual è il problema? Quasi nessuno ce la fa. Ma io sono anni che cerco anche nelle scuole di dirlo, parlando politica tedesca, francese, istitunitense. Quando tu hai il ragazzetto che è disposto ad attirarti una coltellata per fregarti un computer scassato, per entrarti in casa e ti rubo un televisore, la tua domanda è quella, ma perché l'ha fatto? Poteva cadere dalla finestra, ce lo beccano e gli danno tre anni. Per cosa? Perché lui ha in testa 5 mila euro, perché 5 mila euro in Coca è un milione. Capisci il problema qual è? Tutti in questo istante, in te stiamo parlando, chi sta rubando? Ha in testa? Io svolto. Io svolto e adesso mi frego, quella macchina lì, entro in quella casa lì, poi vado, mi compro 5 mila di Coca e mi faccio il milioncino. Chi ha? Ma non ci riesce quasi nessuno. Certo. Ma quello è il gioco, la lotteria è quella e i grandi narcotrafficanti partecipano a questo gioco perché per esempio Scampia vendeva l'ingrosso, non sai quante volte arrivava la persona che si voleva aprire lo studio da commercialista, non sto scherzando, o il ristorante e si prendeva i suoi 20-30 mila euro di Coca per farsi il suo milioncino e poi li beccavano. Chi ti becca? Ha la polizia spesso perché questi boccaloni non sanno muoversi, è complicato. Di i gruppi dove vai a spacciare perché l'idea è, vabbè, mio cugino, un po' di feste, poi becchi l'organizzazione, che non so, alleata di Calabresi e Napoletani, Kosovara, che inizia a vedere che questi non stanno più comprando, ha detto, è finito, ti bruciano la casa, tu sei terrorizzato, la Coca inizia a non venderla, tu magari l'hai comprata in conto deposito, perché la Coca si compra spesso in conto deposito. Non ci credo. Certo. In conto deposito? Sì, sì. Ah, ok, tipo i libri, no, che poi ti fanno il reso. E quindi cosa succede? Quello dice, ve la ridò, spessissimo la persona a cui stai ridando dice, no, ma l'hai tagliata? No, ma non l'ho tagliata. E quindi tu inizi ad avere paura perché dall'altra parte hai persone che ti possono ammazzare. E quindi tu entri in un mondo che ti sembra chiaro, ma è difficilissimo. Una cosa che non ho mai capito è, tendenzialmente la Coca viaggia, cioè o in modalità aerea o nave. Nave, soprattutto nave. No, cioè non è che ci sono tante modalità. Sì, magari c'è il drone, però il drone quanta vuoi. Cioè nave, ok, diciamo nave. Allora, la nave da qualche parte entra, ok, e non è piccola. Cioè la nave è una nave, insomma, se devi portare tanta Coca. Quindi la mia domanda stupida è, quella nave lì va avanti, indietro, non è che ce n'è una, ce n'è. Non saranno solo i sottomarini lì del ciapo, cioè ci saranno delle navi proprio così. Sì, sì. Allora, tutti sono dentro. Perché? Perché non si controllano? Cioè tu fermi lì e controlli, è ovvio che c'è un buco da qualche parte. Non dico solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti. Da dove entra sta Coca? Allora, devi immaginare che la Coca entra dai grandi porti, sempre. Ah, quindi dalla porta principale, in sostanza. In Italia hai Salerno, hai Vado Ligure, hai Livorno, ma soprattutto hai Rotterdam, hai Hamburgo, sono i grandi porti della Coca. Cioè com'è possibile? Semplice, la Coca sceglie sempre i porti più veloci. Se un porto è costretto, vedi Gioia Tauro, a sdoganare ogni singolo ISO, cioè container, nessuno vuole più scaricare nel tuo porto, perché rallenti tutto. È impossibile controllare tutto. Loro sfruttano la velocità del business. Più sdogani velocemente, quindi controlli uno su cento, uno su mille. Ok. Più sdogani velocemente, più quello è il porto dove ci porti la roba. Ma c'è un'altra questione. Quando capiscono che c'è una soffiata, in realtà i carichi si prendono solo per soffiate, è quasi impossibile per controllo. Per controllo becchi quello piccolo. Comunque, quando sentono, per esempio, che c'è un porto particolarmente controllato, buttano a mare prima di entrare. Quindi il viaggio transoceanico se lo fanno in nave. Poi buttano in acqua, arrivano a piccoli imbarcazioni, poi in angiporti e su spiaggia ti prendono la Coca. Ma ti dirò di più. Innanzitutto è un mestiere trasportare Coca. Siamo sistemista, organizzare il trasporto. Sono molto richiesti, quasi sempre sono persone che vengono da carriere imprenditoriali importanti, cioè hanno gestito la logistica e la distribuzione, spesso in alcuni casi. E in questo caso, nel senso, i sistemisti della Coca hanno una strategia precisa. Il carico palese o il carico cieco? Il carico cieco è quello preferito, spiego meglio. Io metto la Coca sulla nave e nessuno sa che ce l'ho messa. Ok. Ed è spessissimo così. Uno solo magari lo sa e pensa che una volta portano, in un'inchiesta si chiama Tirogrosso, portano una nave a Rotterdam e l'antidroga sapeva che era piena di Coca, portano su i canni e non la trovano. Come può essere? Siamo certi, abbiamo visto che l'hanno messa. Cosa capiscono? Che questa nave è stata costruita, cioè mentre la stavano costruendo, non mettevano l'intelagliatura e la Coca. Quindi era possibile trovare, riprenderla, solo distruggendo la nave. Questo per far che per i costi. Cioè preferisci costruire un'intera nave, foderandola di Coca, per poi buttarla. Perché tu la potevi soltanto recuperare distruggendo la nave stessa. e il guadagno è così enorme proprio perché merce clandestina, perché produrre Coca costa zero, zero. La Coca migliore del mondo si chiama Mariposa, è una Coca rosa, insomma la fanno soprattutto in Bolivia. e poi c'è la Coca gialla, che è un nome pisciazza, ovviamente ottima, nel senso è veleno, ovviamente è merda, ma considerata dal consumatore, dal mercato ottima. E poi c'è la Coca bianca, classica. La maggior parte di Coca che viene consumata è talmente tagliata, c'è solo un trucco per capire il grado di fusione, cioè tu metti la polvere bianca su un cucchiaio e poi a bruci con l'accendino. Se brucia tutto subito è tutto taglio. Più ci mette a sciogliersi, più è buono. Quindi se tu hai una Coca che resiste a un tot di secondi, se no tu quello che brucia subito è taglio. Come fai a informarti così in modo dettagliato, approfondito, su temi così difficili? Perché sai, nel mio caso, se io voglio approfondire sui social media, è facile, metti lì, è tutto pubblico. E quindi tu non è che puoi dire allora cerchiamo su Google, sì, cerchi anche su Google perché hai informazioni di tutti i tipi, però poi devi verificare le fonti. Come fai? Atti giudiziari, articoli di giornale, assolutamente. Nel senso che l'articolo spesso ti parla di un'informazione pubblica che tu puoi andare a verificare sempre rispetto alla fonte perché non è che la procura in quanto procura sai che sta dicendo la verità, ma ti dà un atto che poi tu studi. E l'esperienza in questo caso conta tantissimo. Spessissimo mi trovo di fronte a delle inchieste che iniziano a puzzarti. Dici, però ti danno un sacco di informazioni perché magari senti che quella procura o in quel caso quei carabinieri magari hanno poche informazioni ma mentre le stanno verificando ti danno altre informazioni forse soltanto antropologiche. Per esempio l'ossessione che ultimamente si sta avendo in un determinato tipo di riciclaggio è l'ho studiata grazie a delle inchieste anche non andate a buon fine, inchieste dove sono state tutte assolti. Però ho guardato e ho capito per esempio che uno dei grandi mali che sta vivendo l'Italia è che le organizzazioni mafiose, detta così lo so che sembra una provocazione, non investono più al sud. Quando ero piccolo investevano tantissimo al sud. Facevano i loro alberghi, i loro ristoranti, le loro fabbriche, comprarono la camorra del mio paese che è un po' il più grande zuccherificio del Mediterraneo. Non investono più. Perché? Non gli conviene e soprattutto non gli conviene economicamente ma c'è un'attenzione tale per cui, e questo è anche interessante, vuoi un po' piacerti come cosa, se io voglio riciclare lo faccio in maniera semplicissima e così funziona. Immagina che io sono riuscito a piazzare un carico di hashish e ci ho fatto 20 milioni. Come li faccio a far rientrare il tessuto legale? Semplice. Mi apro una società ad Andorra, Lichtenstein, Cipro, ci metto questi 20 milioni. Fine. Poi mi apro una società italiana, mi compro un ristorante, questo ristorante lo vendo alla società dell'Lichtenstein, che sono sempre io, e faccio rientrare legalmente quei 20 milioni. Ora però, per far pagare un ristorante o una pasticceria 5-10 volte di più di quanto l'ho comprata, non posso comprare la battipaglia, non posso comprare la barletta. Devo avere un valore più alto. La compro di fronte al Pantheon. Certo. Perché a quel punto, se una cosa l'ho comprata a 2 e un anno dopo la vendo a 5, ci sta. Certo. E non solo, ma cercherò, facendo business, di pompare il più possibile il turismo. Certo. Quindi io inizio, faccio un esempio, mi succede? io inizio, il bed and breakfast, sempre dell'organizzazione, inizio ad abbassare i prezzi. Perché devono arrivare 100 turisti a settimana che in quella pasticceria me la devono continuamente assediare. Ma a me non mi importa in quel momento guadagnare, mi importa assediarla per poi venderla e poi aumento i prezzi. E tu hai l'impazzimento del mercato. Perché tu hai a un certo punto cose, i ristoranti che di improvviso cambiano tutto e nel percepito è no, si sai, ha avuto successo, sai tutti i russi vanno lì. c'è stato un plan business pazzesco. Pazzesco. Cioè di fatto come fai, come dire, faccio Uber, l'obiettivo è scalare il più velocemente possibile per poi venderla. Quindi di fatto sono aziende a tutti. Hai anche segnalazioni che ti arriva, magari dalla tua community arrivano e ti dicono moltissime. Guarda, c'è questo, ho visto questo. Moltissime, soprattutto sui centri commerciali che è una cosa complicata perché il centro commerciale capisco che è la cattedrale del deserto che genera subito sospetto. Dici, ma come può essere una regione dove la disoccupazione continua ad andare verso l'abisso, i ragazzi continuano a emigrare, boom, 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 il centro commerciale ovunque. È molto più complicato. Raramente dietro a un centro commerciale c'è una famiglia. Ci sono delle strategie dietro e spesso mi dicono, guarda, questi prodotti, questa società idile, perché anche questo è interessante. Il caso Parmalat, anni fa, a un certo punto Parmalat doveva dimostrare che stava vendendo. Ti ricorderai tutta la storia. E nel sud Italia loro si affidarono a degli agenti commerciali vicini al clan. E sai cosa facevano questi agenti commerciali? Questo è bellissimo. Andavano ai supermercati e anche dal dettagliante e mica imponevano con la pistola. Dicevano, se tu prendi il nostro latte, 40% di sconto. E poi lì, avvalo subito. Come potevano farlo? Semplice. Magazzini loro su cui non pagavano le tasse abusivi. Benzina, usavano benzina agricola per il loro camion. Clandestine. Cioè loro riuscivano a provvigionare il loro camion di benzina agricola che come sai non ci paghi le accise. Quindi loro avevano tutta una fila e quando i concorrenti, all'epoca era una marca di latte che fece concorrenza, gli andarono a bruciare i camion. Cioè la violenza è un passaggio solo di un percorso perfettamente legale o di condizionamento. È un vantaggio competitivo che io ho rispetto a te e faccio leva su quello. E anche l'estorsione, noi ce l'hanno sempre è solo raccontata come l'estorsione terribile della pistola in bocca e tu che devi dare il centone o i mille euro. Quella è la cosiddetta estorsione stracciona. Cioè del clan che non ha alcuna forza, vuole semplicemente imporre una violenza e ti dà la richiesta. Ma l'estorsione vincente, quella che nessuno ti denuncerà mai, è la partecipazione a una comunità. Cioè tu mi paghi il 5%, il 3% del tuo profitto. In cambio hai, se devi ristrutturare, la mia società di deal è che te la viene a fare in un attimo a nero. La benzina che vai dai miei distributori, pompe di benzina bianche che te la danno sotto a niente. Quando la finanza sta avvenendo o chi che sia a fare un controllo, noi abbiamo i nostri che ti avvertono. Sulla questione fiscale sappiamo come gestirla, abbiamo i nostri. Abbiamo i nostri. Cioè se hai capito? Avevo visto un'intervista con un ragazzo che aveva lavorato in Messico nei servizi, nella polizia e raccontava di come i villaggi fatti da El Chapo fossero strepitosi, cioè funzionava tutto, era un paradiso e quindi tu sei lì e dici grazie El Chapo che almeno se sto male il medico è tutto come dire perfetto. Per cui questa poi è una leva dove perché devi cambiare? Cioè se hai tutto e di là non funziona niente? Sì, quello poi per il consenso anche Pablito Escobar faceva lo stesso e a un certo punto per ottenere consenso anche connivenza, silenzio e nel caso poi di Escobar c'era proprio una visione politica ciapomeno loro vanno nel loro pueblo o vanno nel ghetto insomma nella favela e iniziano a costruire tutta una serie di servizi che lo Stato non dava per cui tu diventi il mito. Le favela per esempio nel caso delle favela proprio come sono venute in mente è successo questo a un certo punto e cioè che c'è un libro di Mischa Glenn che ne parla Nemesi bellissimo il boss della favela si trova fino anni 90 a capire che nel momento in cui i grandi rocker i giornalisti i registi iniziano a parlare della favela le persone iniziano a guadagnare non solo spacciando perché c'è l'associazione la borsa di studio e quindi si inizia a dare un valore alla vita prima l'unico valore che hai è buttare quella vita cioè tu mica il narco pensa di vivere a lungo mica il ragazzo che sa che ha la pistola in tasca non lo ammazzeranno ne è consapevolissimo ma sa che quello è il suo capitale cioè io proprio perché muoio domani oggi riesco a mangiare o a vestirmi o a stare bene o a diventare addirittura ricco quindi cosa succede? la favela inizia a cambiare se c'è una possibilità in cui io sto bene inizia a cambiare e lui tra l'altro poi per non fare una faida andrà in galera insomma non se la sente più di praticare il narcotraffico perché si rende conto che la favela si sta trasformando quando parliamo di favela parliamo di una situazione di disperazione dove il narcotraffico può entrare anche questo è interessante e guadagnare tanto perché ti può pagare poco anche questo è un fatto che io sono cresciuto in un territorio dove le organizzazioni criminali guadagnavano tantissimo mi sono sempre chiesto ma perché non ci fanno un campetto? io me lo dicevo da piccolo ma questo è che gli è in porta? e vedevo i risultati 300 la via diceva 300 milioni di fatturato del clan dei Casalesi un paese piccolino perché non fanno un campetto di calcio fighissimo uno stadio anche perché vedevo in arco leggevo che i narco sudamericani lo facevano ma c'era una ragione anche questo è interessante ipercapitalismo e io in 00 ho voluto che insomma che si raccontasse se io se io inizio a dare soldi a tutti io boss inizio a dare soldi a tutti e chi è che fa un omicidio poi per 5000 euro mercandosi 20 anni certo mi si alza il costo della forza lavoro quello vuole 100 mila vuole assicurazione vuole l'appoggio diciamo di uno stipendio fisso alla famiglia anche perché c'è un grande welfare delle organizzazioni criminali quando tu vai in galera hai subito la reversibilità il tuo stipendio alla famiglia se tu hai per esempio un bambino disabile le organizzazioni aumentano questa reversibilità addirittura c'è stato un problema per esempio quando io seguivo la faida anni fa a scampia a un certo punto quando finiva in galera un ragazzo molto giovane la reversibilità si dà alla fidanzata ma spesso si presentava dal capo zona si presentavano tre fidanzate allora si sceglieva la ragazza incinta o quella comunque riconosciuta dalla famiglia è tutto un codice un codice incredibile ma io ero presente a un processo non lo dico vai era l'inizio della mia situazione contro un clan di Torre Annunziata leggono le sentenze e un ragazzo in gabbia fa così all'epoca c'era un mio caposcorta che sto ragazzino si vede gli fece tenerezza e gli sussurrò di sa beh dai sono tre anni e questo lo guarda e dice chi glielo dice a mia moglie che sono solo tre anni perché con cinque avrebbe avuto due cinque al mese sotto i cinque mille euro questo ti fa anche capire che quando senti al TG condannato a vent'anni spesso diventano al secondo grado dodici e poi per ogni anno sono soldi in carcere fai carriera tutto poi dipende dalla tua capacità nel senso che nelle organizzazioni criminali è raro che se sei proprio tonto oppure non è che c'è nessuna raccomandazione sbagli muori il raccomandato c'è nel senso che sei figlio di come no nelle organizzazioni soprattutto andando anche da un'aristocrazia e però raramente fai carriera e il carcere più carcere fai spesso più relazioni hai perché tanto tempo a meno che non ti chiudano il 41 bis che è un carcere duro quindi difficile comunicare tu li incontri tutti incontri le relazioni serbe e qui ti fa la tua rete di networking e il networking si fa in carcere l'ossessione te lo dicono sempre i pentiti è che ogni giorno si parla di cosa si sta facendo fuori e cosa si farà una volta fuori un tuo parere su questo aspetto collegato che hai toccato in parte prima che è un aspetto legato alla comunicazione e a come puoi manipolare i comportamenti delle persone mi ha fatto venire in mente una una ragazza che lavorava in Cambridge Analytica per esempio che diceva quando noi affrontavamo le campagne politiche per vincere una campagna politica a parte i metodi illegali però dal punto di vista della comunicazione se c'era uno che per dire non voleva votare per Trump ok e voleva votare per Clinton noi non è che proviamo a convincerlo il nostro obiettivo era non farlo andare a votare fine del problema quindi nel momento in cui comunico diciamo dal punto di vista della comunicazione delle organizzazioni criminali nel momento in cui io ti metto in una condizione dove tu non hai altre alternative non hai opzioni possibili c'è solo quella il gioco è fatto perché tu scegli la migliore opzione che hai a disposizione è semplicemente quella che fanno tutti gli altri si è sempre fatto così e basta insomma non hai nessuna possibilità e per cui può essere un parallelo che ha certo ti dirò di più hai anche un senso di appartenenza ci sono spesso delle collaborazioni per esempio c'è un pentito un quasi pentito insomma Augusto Latorre un boss di Mondragone che diceva spesso ragazzi che volevano entrare non mi chiedevano neanche soldi perché è figo perché in una realtà di paese o comunque dove essere parte di un'organizzazione ti fa sentire qualcosa in più perché le persone iniziano a guardarti come un individuo che può offendere che può mettermi paura che potrebbe fare soldi anche questo è un dato interessante lo sai che oltre era stato uno studio fatto solo sull'endrine calabresi il 90% degli affiliati muore quasi in miseria pochissimi quelli ce la fanno con grandi quantità di soldi poi c'è un altro elemento i capi non godono mai del loro danaro altro elemento che in 00 ho voluto fortemente vedrai che nell'inizio della serie sono molto fiero c'è un lungo discorso che io ho preso da diversi boss che hanno fatto come delle lezioni sono stati registrati uno di questi boss Pasquale Condello ha detto il supremo il supremo il supremo l'oro io li definisco li ho definiti per molto tempo gli ultimi calvinisti anche se poi i calvinisti mi hanno scritto offesissimi di questa cosa quindi hanno ragione ma è solo un'espressione che intende dire mai godere del profitto del tuo lavoro ma solo reinvestire cioè nel terzo libro del capitale Marx lo racconta bene cioè il grande capitalista è la sceta o quello che si fa la villa la macchina fermo a costruire il suo profitto perché il profitto è la sua vincita sul mondo il far bene le cose il guadagno è solo la prova che quella cosa funziona il godimento è una perdita di tempo il rischio di sbagliare di perdere l'obiettivo ed è la domanda che secondo me ti sarei posto immagino com'è possibile quando tirano Provenzano da quella masseria che mangiava cicoria chiuso per decenni certo com'è possibile appunto ma li vedi sempre in condizioni che dici ma perché non stai in una billettina almeno ma poi soprattutto tu hai fatto tutto questo per finire lì sì perché è tutto nella testa tant'è vero che ho imparato negli anni incontrandoli studiandoli stando i processi osservandoli e cosa capisci che un boss non ragiona per anni ragiona per ere io vado in galera e mio nipote sarà un grande imprenditore del ferro ma è così eh che è come appunto sentire i grandi capitalisti o chi dice ragione per decadi per la mia legacy tutti questi discorsi e poi vivono Condello vive a sottoterra cioè capisci la condizione e non sanno questo è il dettaglio non sanno i loro soldi dove arrivano che è una garanzia per tutti nel momento in cui io prendo soldi di un fondo e in quel fondo noi l'abbiamo visto con i Panama Papers nelle stesse piattaforme c'era perché sai portare i soldi offshore non è illegale anzi è una cosa che la legge ti permette nella stessa piattaforma c'era pilota di Formula 1 la regina Elisabetta e il capo dei narco messicani ma non è che si conoscevano certo ma esempio Panama Papers questo a me fa morire dell'informazione attuale una cosa che mi manda fuori di testa se analizzo come si muovono le notizie i tempi delle notizie il ciclo di vita delle notizie esce la notizia Panama Papers dura 72 ore dai per dargli un po' di lunghezza un po' di strascichini ogni tanto chiuso non ho mai più letto da nessuna parte ma dove sono le persone cosa è successo non lo so no si hanno pagato diciamo il prezzo qualcuno Panama Papers è una storia strepitosa perché è tutta interna la concorrenza delle piattaforme di riciclaggio questa è anche l'ultima stagione di Gomorra racconta su Londra cosa succede? Londra diventa la capitale del riciclaggio mondiale a Londra puoi portare un treno di soldi ma vero non è un treno di soldi puoi consegnarle lì nessuno ti chiederà l'origine di quei soldi la strada che devi usare è semplicemente lo scalino Commonwealth quindi Gibilterra Malta Jersey Panama entra in concorrenza cioè cavolo stanno portando tutti i soldi a Londra qualcuno mette la manina e fa uscire i nomi noi abbiamo tutelato sino ad ora adesso andate tutti in Europa quindi dietro c'è sicuramente un problema di concorrenza cioè oggi i soldi ecco il problema poi è anche dei giganti delle grandi piattaforme delle grandi aziende informatiche cioè l'illusione fiscale no? l'Europa nel momento in cui ha Liechtenstein Lussemburgo Malta poi hai Cipro hai Londra il messaggio è evidente cioè le tasse le paga il disperato l'imprenditore può essere fregato alla polizia fiscale il gigante le porta a Malta attenzione ma sta facendo un reato? no sta facendo qualcosa di immorale? io credo di sì però è anche vero che hai messo in delle condizioni per fare una cosa del genere bisogna parlare e rinegoziare nel momento in cui però hai queste isole in cui versare soldi quella negoziazione non ci sarà mai cioè la grande azienda che parla con Parigi e dice non mi azzannare negoziamo in cambio di uno sconto fiscale io ti apro a San Denis la mia azienda i miei uffici quindi ti ripulisco un quartiere ti assumo i ragazzi questo è raro che accada se io posso portare i soldi in Lussemburgo assolutamente dimmi una cosa Roberto della paura la paura come leva in comunicazione per un'organizzazione criminale immagino sia sempre alla base poi di questo business in realtà a parte la mia curiosità personale sulla tua paura perché io fossi in te dall'inizio non avrei mai potuto fare quello che fai tu nel senso avevi proprio paura in generale però come la vivi tu personalmente e come vedi se c'è stata un'evoluzione nell'uso della paura anche per far crescere questo tipo di organizzazione la paura personalmente è stata in coscienza ok non sono mai riuscito veramente a rendermi conto prima che accadesse per cui tu ti ci sei trovato di fatto sì un po' sì perché dai cresciuto lì in qualche modo molti avevano già scritto di queste cose a me quello che ha generato il cortocircuito è stato il successo cioè quando la tua parola arriva a molti i tuoi nemici sono costretti a agire su di te poi sai c'è una cosa interessante le organizzazioni criminali leggono molto quello che scrivi su di loro anche se scrivi in posti io da ragazzino scrivo tipo sul manifesto ma come è possibile che i casalesi leggevano il manifesto no avevano l'abbonamento la rassegna sui loro nomi quindi arriva loro avvocato tutti gli articoli dove sono citati loro osservano molto questo e la paura vera quella terribile è che a un certo punto tu hai un pezzo di informazione un pezzo di nemici politici che è sempre lì ogni giorno ogni giorno ad illegittimarti col vero col finto vero col verosimile con la manipolazione soprattutto a dire qualunque cosa tu faccia sappiamo che cosa stai facendo questo ti mette in una credo che sei in una gabbia di vetro gabbia di vetro magari in una gabbia chiusa e occhio che questo quel meccanismo oggi è molto più facile grazie a un'opzione che si chiama google news e spesso penso a Pasolini perché Pasolini processato pensa per rapina non so se lo sai è stato processato per rapina a mano armata perché un benzinaio dice mi ha fatto una rapina con una pistola d'oro se ci fosse stato google news quella roba si sarebbe stata spammata invece la riprendeva la notte il borghè giornali che erano letti solo da chi la pensava in un certo modo la delegittimazione oggi anche delle organizzazioni criminali non solo ma in genere è molto più facile perché io ti voglio delegittimare uso te come vettore in passato dovevo trovare una piattaforma talmente autorevole che le persone dovevano incontrare la delegittimazione su un quotidiano un canale televisivo autorevole e quindi quella delegittimazione credevano a quella delegittimazione oppure altrimenti compravi quel giornale lì avevi già quella posizione oggi non è così oggi io voglio seguire te però seguendo te mi arriva tantissima merda su di te e anzi chi sta producendo quella merda si rende sempre conto che più te ne spara contro più fa cash e quando poi il cash non è il riferimento ma il riferimento è il capitale politico e lì è fatta il politico visto al board economic forum a Davos in questi giorni Trump che lo fermano e dicono cosa pensi c'è Greta qua cosa pensi del climate change è un tema importante per me è fondamentale ma come hai appena detto che non esiste no cioè oggi tu puoi dire tutto il contrario di tutto quando dici opinioni fatti tu dai un fatto io do un'opinione allo stesso piano e quindi diventa difficile districarsi per il tempo perché oggi faccio un esempio l'affermazione che hai appena descritto quella di Trump quanto dura nel dibattito quattro ore è tantissimo tantissimo quattro ore è una vita sui social quattro ore è veramente una vita sui social immagina invece il tempo prima dei social cioè il quotidiano durava ventiquattro immagina un giornale ma te lo ricordo direi ai ragazzini noi ventiquattro ore aspettavi il giorno dopo aspettavi il giorno dopo e il settimanale era l'approfondimento e poi avevi il telegiornale se tu pensi adesso che il quotidiano già quando il giorno dopo le dico è un approfondimento perché tutte le notizie le trovate online e si stanno evolvendo quindi già il quotidiano è un approfondimento è un approfondimento sempre di poche ore il tempo è la stessa cosa quando si dice perché lo smartphone ha ucciso il libro in qualche modo in realtà gli ha solo sottratto tempo perché se io al bagno avevo prima il libro in aereo avevo il libro a letto avevo il libro e poi a un certo punto lo smartphone mi sta togliendo sta occupando quel tempo ma in realtà la lettura c'è l'intenzione di trovare una storia c'è identica anzi addirittura maggiorata la questione in realtà appunto delle fake news o dell'impossibilità di comprendere quando è un'opinione quando è un fatto quando è un fatto comprovato quando è approfondito e soprattutto la complessità non c'è più la vocazione alla complessità cioè per capire quella vicenda bibbiano per capire una vicenda di mafia il traffico ho bisogno di complessità non si può sempre ridurre tutto a pochi elementi e la complessità ha bisogno di tempo oggi devo avere un'idea domani devo avere il tempo di cambiarmela se no è fatta invece quando tu devi solo tifare io parlo alla paura cioè parlo a qualcosa che non ha bisogno di tempo quando tu senti paura scappi non è che c'è pensi a cosa fare e poi è troppo dal punto di vista della comunicazione è troppo più facile se c'è il problema degli immigrati io ti dico a casa gli immigrati e quello è facile lo capiscono tutti se invece mi metto lì e dico allora vediamo il problema dell'immigrazione da dove parte ma se manca l'acqua cioè inizia a dare ti ho già perso c'hai dieci secondi in tv nel colloquio per cui da quel punto di vista onestamente non saprei dire come se ne possa uscire perché di fatto io vedo in tutti i settori non riesci a mai davanti anche a un fatto chiaro questo è un bicchiere ma no secondo me no e in centomila sosteniamo che i bicchieri non esistono e allora boh ma forse non lo so se esiste ancora tu hai oggi dei contenuti anche molto lunghi molto approfonditi che un tempo non c'erano hai video di due ore e mezza tre ore di discussione su qualunque argomento dalla scienza alla filosofia e hai persone che fanno milioni di visualizzazioni con contenuti più approfonditi il fatto è che magari un contenuto più approfondito comunque ti apre diversi dubbi no perché devi sempre avere una mentalità aperta e la gente vuole sicurezze semplici veloci lo sloganismo per me lo sloganismo è chiaro che funziona però è difficile a volte fare un passaggio una curiosità che avevo è questa tu chiaramente ormai scegli sempre temi molto difficili problematici complessi non ti viene mai voglia anche di un minimo di leggerezza di togliere questa pressione enorme che hai addosso forzatamente no sì tantissime volte ed è difficile perché il tuo pubblico resta un po' spiazzato no dici Saviano per me sei sempre necessariamente serio tanto è vero che i social una volta mi aiutano perché ti fai la foto diciamo non fu più scema ma te la fai un po' più leggera e c'è una parte anche di persone che ti vogliono bene che sono felici e l'altra che restano un po' delusi altre che dicono ah ma sei anche così tipo ridi ah ma sei mangi c'è una limonata sì è strano è strano e guarda per quanto possa sembrare paradossale in questo senso il gioco l'uso di Instagram a volte mi aiuta a mostrare anche dolori scegli quella citazione perché in quel momento sei particolarmente malinconico mi aiuta a un percorso diciamo di allontanamento dal dolore o dall'ossessione perché questi temi per me sono ossessivi cioè io adesso esco da qua mi devo andare a studiare un malloppo che mi è appena arrivato ieri sull'arcotraffico a Roma ma è così quando hai una particolare passione sei esperto di qualcosa poi ne sei nutrito occupato e dicevo io ho un'altra gabbia un'altra condanna io dovevo morire quando tu sei quello condannato a morte ogni volta ogni anno che passa questo me l'ha raccontato Salman Rushdie ti ricordi che bella fatta la terza come Rushdie un giorno veniamo convocati all'Accademia Nobel io emozionatissimo lui mi fa un discorso lì dal palchetto del Nobel e mi dice adesso sei ragazzo io sono vent'anni io ho questa fatta e ogni volta ma come va alle feste poi lui non so quante volte si è sposato ma come ma come te la godi ma quanti libri stai facendo l'anno tu non dovevi morire questa cosa io la presi un po' alla legge vabbè ma è un'altra storia l'America poi lui c'è un po' inciampato non è che era andato contro gli islamisti nel mio caso era una scelta quindi io la presi così dicendo ti ringrazio ma non sarà così invece è accaduto proprio questo cioè il sospetto sei un impostore perché stai parlando perché sei vivo ma cazzo non dovevi morire e soprattutto le mafie sono così potenti che fanno non ti ammazzano e anche qua c'è complessità devi capire del perché mica è una cosa semplice allora o ti prendi del tempo e cerchi di capire che cosa succede e cosa è successo quando Cosa Nostra ha deciso di ammazzare ti studi cosa è successo quando loro hanno per esempio valutato dove come ammazzare Falcone hanno raccontato per esempio a Roma a Falcone a un certo punto quando veniva accompagnato a casa dalla scorta usciva da solo davvero? di notte di sera anzi neanche di notte andava a vedere con la moglie il cinema in New York era senza scorta in Israele senza scorta e uno di questi boss sostiene mi sono seduto dietro di lui pensavamo di poterli sparare ma non si poteva fare un'operazione del genere a Roma il messaggio era un'altra cosa è un'uccisione da sicario lì era un'operazione fatta in Sicilia fai saltare un'autostrada Borsellino e Idem a un certo punto mettono un cecchino pensano di poterlo sparare da un balcone invece bisogna fare un'operazione militare molto più forte perché tramite un'esecuzione tanto non l'hanno più fatto le altre organizzazioni non vollerono fare Cosa Nostra andò dai napoletani dai maranesi Nuvoletta andò dai calabresi a chiedere una mano per questa strategia non vollerono l'uscita infatti dirà Erina che ha ucciso Cosa Nostra perché ha fatto operazioni terroristiche cosa che non si fa mai nella storia è stata fatta molto poco dalle altre organizzazioni serve un messaggio più forte ma poi devi capire cioè non è che puoi liquidare ma sei vivo quindi che cosa significa ci sono molte molte strategie e il meccanismo di protezione di scorta è un meccanismo lo Stato è dalla tua parte se ti si tocca significa che in alcuni paesi è impossibile agire per esempio in una città come New York o in altre situazioni ci sono tutti Oran Pamuk è lì Irsiali è lì Lidia Caccio è lì perché ci sono delle situazioni dove se studi capisci che le organizzazioni non si muovono perché perderebbero troppo troppi soldi troppa luce per anni devi firmare una serie di affari però da fuori vabbè ma e fa guarda quanto è facile c'è stata infatti un'intera campagna con tutti me su questo vabbè ma dai e come fai come fai Roberto a vivere in questa situazione ti sei abituato ormai a vivere non ci sei abituato mai in realtà la depressione è sempre lì cioè vai giù tantissimo perché tu poi sei cioè non puoi avere famiglie figli no devi nascondere devi nascondere la tua vita devi cercare di costruirti un percorso anche mentale psicologico in grado di vivere di vivere triple quadruple vite cioè nel momento in cui tu sei nel tuo appartamento a Berlino puoi fare la spesa ti metti l'occhiale il cappellino e vai a fare la spesa oppure c'hai due soli uomini invece di sette e due auto blindate ce n'hai una magari non blindata c'hai la polizia spagnola e lì fai finta che le cose funzionano così e poi devi proteggerti perché qualsiasi cosa essendo così pubblico diventa di tutti quindi tu te ne so quando vado a tornare mio fratello dici che non sei lì certo però diciamo anche in quel caso è una dinamica tutta particolare nel senso che anche lì per esempio è molto difficile spiegare del perché le dinamiche familiari sono diverse da come uno le immagina ti faccio un esempio sulla collaborazione di giustizia quando una persona si pente un mafioso si pente se gli ammazzano i familiari le sue dichiarazioni immediatamente iniziano ad assumere valore io mi pento hanno uccidono certo vuol dire che era vero quindi le organizzazioni come tu arrivi a pentirti non ti toccano e cercano di delegittimarti fino alla fine ma prima che tu faccia quel passo cercano di intimidirti le organizzazioni che hanno ucciso familiari dopo delle dichiarazioni sono organizzazioni che lo hanno fatto non per bloccare quel pentito ma per bloccarne altri ok un segnale per gli altri perché quello perché anzi sapendo che se io ammazzo il familiare del collaboratore di giustizia quel processo io l'ho perso perché ho la prova che sto dicendo la verità addirittura se ti ammazzo faccio la cosa più grave in assoluto perché sto che tutto quello che tu ecco perché il pentito sai devi dire tutto in pochi giorni anche a sua tutela è perché se tu inizi a dire in assoluto manipoli il processo mi sono ricordato oggi e poi soprattutto non stai tutelando te stesso perché significa che se ti faccio fuori sto salvando una serie di informazioni invece tu devi sparare per quello che ti ricordi perché poi sono vent'anni di vita a volte a volte è quasi comico perché tu vedi questi pentiti quante persone ha ucciso credo 80 in che senso credo dove primi 10 nessun killer si ricorda nessun killer si ricorda chi poi dice ero ragazzino e poi spesso siccome sono sempre spesso soli dicono non mi ricordo se me l'hanno detto ma sono onesti in molti casi poi esistono un sacco di pentiti celtroni figurati ci sono molti che mi molti magistrati mi dicono sempre i pentiti hanno la loro assicurazione sulla vita cioè quelle due cose che non dicono e quei tre conti che tengono lì fermi sai una cosa che mi ha sempre colpito dei broker ci sono dei broker di coca uno si chiama uno bergamasco Locatelli che hanno dei conti non lui ma in genere spesso hanno dei conti fermi per vent'anni perché sanno che come toccano possono essere beccati quindi tu immagina di sapere che hai 20 milioni su un conto una piattaforma offshore e vivi con non sto scherzando con 500 euro di pensione che ti dà tua madre perché hai gli occhi della polizia e dei giornali addosso per molto tempo e come compri una casa iniziano a dire il boss oppure l'ex boss si compra casa a Piacenza quindi tu immagina e devi resistere perché sai che a 20 anni e un giorno nel momento giusto quando c'è quella legge quei soldi possono ritornare tuoi guarda anche quanto lavoro su se stesso quindi nel mio caso a un certo punto io ho cercato di apprendere la pazienza non ci riescono maggior parte dei casi però apprendere la pazienza cercare di stare protetto cercare di tutelare gli affetti difficilissimo anche perché poi diventano bersagli politici certo cioè per attaccare te io vado sul tuo padre vado sul tuo fratello vado a capire perché così poi tu ne devi rispondere tu e vivere con la scorta che è una cosa a cui ci si abita ma tu potresti rinunciare la scorta e dire basta non la voglio più ci ho provato nel senso che a un certo punto o è obbligato cioè la devi per legge essere no ti viene imposta non è che tu puoi anche richiederla non è stato il mio caso e anche se dovessi richiederla non è che è la tua richiesta che è determinante tu ti ricorderai la terribile storia di Marco Biaggi Marco Biaggi si sentiva in pericolo chiese la scorta e gli fu detto che non era necessario quindi non è che basta richiederla nel mio caso io non l'ho mai chiesta ti viene data e rinunciare nasce da una negoziazione cioè luci sugli organismi sentono tu cosa ne pensi ok però c'è un altro tema qualunque cosa accada alla sicurezza di una persona non può essere un dibattito pubblico chiaro cioè se tu vuoi togliere la protezione a chiunque anche a un ex politico se nel momento in cui lo fai pubblicamente lo stai rendendo bersaglio anche a chi lo odia cioè la sicurezza è un tema medico non so come dire cioè vai dal medico il medico non può discutere e dire ma secondo voi è malato o no sto ragazzo lo fa col paziente e inizia un percorso quindi quando a un certo punto anche la politica nei miei confronti ha iniziato a parlare di sicurezza faceva l'errore di portare un tema tecnico pubblico appunto come se il medico dicesse decidete voi è malato o no ci sono tante valutazioni che si fanno su la tua sicurezza ma soprattutto fai passare che la scorta è un merito non lo è la scorta non è un merito questo cerco di dirlo non è che sei figo o al contrario sei sfigo non è che sei autorevole potrei farti un elenco infinito di persone orrende che sono state protette perché effettivamente rischiavano lo Stato ti protegge quando sa che un suo cittadino ci sono degli elementi che lo respongono e ti protegge perché sta proteggendo il suo diritto a far esprimere il suo cittadino o a difendere il leader di un partito e a te arrivano anche segnalazioni a volte dove ti dicono attenzione per anni per esempio mi dicevano mi sono arrivate segnalazioni non si può andare in quella città negli anni in cui c'era Peppe Setolo non ricorderei ma soprattutto c'era un gruppo che faceva delle operazioni militari violentissime ci fu la strage di Castelvolturno contro i ragazzi africani ti prendono e ti portano una volta a un paesino in Piemonte ma in meno di dieci ore così una volta su un'isola sì erano anni di tensione è un po' che adesso avviene ma diversamente ma ci sono momenti in cui quando torno a Napoli c'era la paranza c'erano le paranze ci sono dei momenti in cui c'è grande tensione e capisci anche che per esempio questo è bene che i giornali come dire non seguono questo livello di tensione perché a volte la amplificano la delegittimazione è uno strumento veramente bastardo pensavo avevo visto il caso di Snowden e a me ha sempre colpito tantissimo la tecnica di delegittimazione che poi è stata usata con Teo identica dove lui esce e dice un fatto vero con le prove cioè dice ecco il fatto ci spiano tutti la dico facile e la risposta non è questo fatto non è vero la risposta è tu sei una spia subito boom giro subito il riflettore su di te sul personale stai facendo soldi stai facendo soldi ma chi c'hai dietro e via così e ogni volta a quel punto si dimentica e questo fatto comincia a dimenticarsi e dice ma era vero ma sì ma tanto era una spia e via e questa cosa diventa alla fine secondaria e il problema principale sei tu che è come dire l'abc questo però è incredibile come poi l'opinione pubblica la influenzi molto facilmente così il meccanismo che è sempre esistito è sempre esistito e c'è un punto che il web ha reso più facile questo gioco cioè delegittimare delegittimare Snowden in passato sarebbe stato un po' più difficile è molto facile perché nella delegittimazione è veloce l'argomentazione è lenta sai la frase di Twain cioè mentre la verità mentre la menzogna ha fatto tre volte il giro del mondo la verità si sta ancora blocciando le scarpe ci metti anni a credere ai miei pregi ma credi subito ai miei difesi certo che bello credere ah ma Snowden non è coraggio e poi anche un'altra cosa che ci siano delle contraddizioni della persona che cerca la verità o in qualche modo ha fatto un'inchiesta è naturale questo è l'altro aspetto assolutamente è ovvio che una persona sbaglia fa delle cazzate delizio questa presunzione di perfezione e a quel punto uno dice ti puoi criticare solo se sei perfetto e questo significa anche abbassa gli occhi se non sei un essere perfetto non puoi criticare accetta tutto ma questo è il grande meccanismo del potere cioè hai anche tu le unghie sporche quindi zitto allora tu dovresti dire cioè quindi le mie unghie sporche mi rendono identica a un criminale a un trafficante i miei errori le mie contraddizioni mi rendono identica a chi invece ha commesso dei crimini il corrotto il politico corrotto identico al politico che sbaglia questa il gossip tende a fare questo equiparare siamo tutti merda certo e quindi il gossip fa vincere il peggiore perché il peggiore almeno l'ha detto non ha nascosto niente è sincero invece l'altro è un impostore e nel caso per esempio del guadagno oppure della presa di posizione forte io mi ricordo che ce ne fu durante la guerra in Afghanistan una ragazza inglese che raccontò di questo suo fidanzato che era morto in guerra e l'opinione pubblica inglese iniziò su questa storia a virare verso una strategia di pace cioè non volevano volevano ritirare le truppe inglesi questo ragazzo era morto se ti ricordi fuoco amico erano diciamo su una montagna dell'artiglieria segnala immediatamente di evacuare due soldati un ragazzo entra in panico uno dei due si toglie il giubbotto anteproiettile e glielo mette all'altro quindi due giubbotti grazie a questa cosa inutile il ragazzo esce dal panico l'artiglieria però è in ritardo e inizia a sparare il ragazzo con due giubbotti si salva quello che ha fatto il gesto eroico di donarlo per farlo uscire dal panico muore la moglie di questo soldato inizia a dire basta con la guerra sai cosa fece l'uscita? che la moglie è stata una ragazzina ventenni aveva una relazione extra con il gara cosa c'entra? la cosa più normale del mondo non so da te se te fuori sei giovane però questa cosa servì a dire non parliamo della pace non parliamo della guerra non parliamo della tragedia parliamo che tu hai finto certo distrazione e gioco su un altro tavolo come hai fatto in questi anni e come fai quando vengono messe in circolo notizie false che ti riguardano? in genere non si risponde ok in genere non si risponde quando rispondo sono moltissimi ma quando rispondo lo faccio perché posso aggiungere qualcosa posso approfondire qualcosa su quella vicenda cioè mi interessa ok mi interessa sul piano diciamo tecnico mi interessa o smontare la balla perché posso farlo sapendo però che l'amplifico certo e l'obiettivo di chi ti attacca è che tu risponda sempre avere la tua community almeno gli dai visibilità sempre ma anche semplicemente come click ma anche porta a casa il risultato cioè va dal suo direttore ammesso che ce l'abbia e dice oh ha risposto quindi abbiamo colpito nel segno si deve sempre ignorare soprattutto quando la fesseria è proprio altissima quando invece c'è la possibilità di riargomentare cioè per esempio a volte rispondo quando hanno fatto i finti i miei post una volta fecero un post dicendo ah non so il ragazzo nigeriano non poteva sapere che era un reato smembrare quella ragazza perché viene da un'altra cultura una cazzata totale io lì ho preso il post fake che mi avevano costruito graficamente e ho scritto col timbro fake sui miei social falso oppure quando ci sono le accuse di plagio o cose del genere tu racconti da chi viene da giornali che un giudice ha definito essere complici del mondo mafioso oppure meglio ancora teorizzi cioè dico no tu mi stai dicendo che io ho preso da te ma in realtà quella è un'informazione che era ovunque cioè se io racconto che il ciapo è stato arrestato in quel modo l'ho preso da te era un'agenzia tu hai preso un'agenzia io ho preso l'agenzia e anche se l'ho letta da te è un'agenzia quindi mi interessa entrare nel dettaglio il gossip o comunque l'accusa falsa in genere hai un unico modo per difenderti ignorarla sapendo benissimo che prima o poi anche una persona per esempio l'attico ammanata un giorno arriva mio fratello e mi dice ci amiamo molto siamo molto uniti con mio fratello fiamo una cosa sola e mi dice oh Roma che hai preso l'attico ammanata mi dice cazzo ma non ci puoi davvero ci stai credendo io ho detto no no per un attimo perché mi sembrava strano cioè scusa mi ero dimenticato capisci è una roba e tu persino persone che ti vogliono bene ti sono vicine per un attimo quando una cosa è ripetuta centomila volte come per assodata soprattutto quando tra l'altro non è neanche un crimine si compra una casa lavorando ti viene a dire ma è vero e guarda che la cosa è dice cavolo una cosa interessante di quando ti attaccano non è anche quando la balla è incredibilmente balla non è tanto la falsità in sé perché tu quell'amore lì dici ma figurati perché poi davvero la menzogna quando è completamente inventata cade dopo poco quando ha una parvenza di verosimiglianza ci mette un po' di più ma la cosa fastidiosa è la domanda che ti fanno le persone intorno a te infatti in gergo sai che cosa c'è un termine si dice ballare cioè ti fa ballare da avanti e indietro cioè a un certo punto ti chiama il tuo parere la tua madre e dice ma ho visto sta cosa quella è la cosa più fastidiosa perché tu le persone ma è vero che ti candi non sai quante volte ma ti stai candidando ma perché dici sta cosa infatti era la mia prossima domanda le prossime domande era ma è vero che hai preso l'attico non so dove e se ti candi guarda che questa è la cosa credimi e lì capisci che sono entrati nella tua vita quando devi rispondere di cazzate di cazzate la tua gestione invece dei social come avviene a dove sei più presente io ti vedo ad esempio facebook dei video vabbè youtube ci sono un sacco di tuoi video interventi però dove sei più presente e come come li gestisci sono sempre io a gestirli instagram facebook e twitter sono le mie piattaforme twitter dove ho un milione e otto circa di follower sono è una comunicazione di gusto politico certo e do indicazioni e do indicazioni di eventi instagram e sono arrivato e sono arrivato più tardi su quella piattaforma perché l'ho capita più tardi ogni piattaforma ha la sua logica e l'ho capita in relazione a me nel senso che la foto la card e il video i gtv mi ha aiutato molto prima i video erano più corti era impossibile per me postare su instagram le stories faccio stories per esempio dove racconto la storia di uno scrittore ogni touch vai avanti con il capitolo mi è stato molto utile per passare per esempio dei racconti Nasrin Sotudeh tutta una serie di una dissidenza iraniana mi ha aiutato molto a comunicare in più la foto le foto su di me che a volte dicono ma che me frega che posto il tuo selfie per me il selfie è un racconto di prova cioè questo spazio è uno spazio mio uno spazio che gestisco io è uno spazio mio uno spazio dove vorrei un giorno anche arrivare a cazzeggiare non ci riesco anche per vergogna però è uno spazio dove il gioco comunicativo è totale per cui se leggo un libro che mi piace lo comunico se ho un evento in cui mi sono emozionato lo comunico cerco di mantenere sempre un livello diciamo di contenuto alto di approfondimento mi lascio influenzare dai like davvero zero zero però mi faccio la valutazione quando un post non ha particolarmente funzionato dai un'occhiata ai commenti sempre ti capita mai di rispondere io a volte rispondo ai miei haters tipo la mia risposta standard è quella lì però da quest'anno voglio essere più misericordioso tu rispondi invece io rispondo vorrei rispondere di più soprattutto invece alle persone che si si spendono tanto anche in commenti di analisi ai miei articoli o ai miei video io poi ho molta comunicazione politica quindi puoi immaginare la merda la metafora che uso sempre è che gli haters mi hanno aiutato perché hanno concimato con la loro merda i miei radici hanno molto concimato soprattutto la comunicazione politica tutto il dibattito sull'immigrazione arrivando a tonnellate di merda sono sbocciati di tanti fiori di dibattito a volte però la merda è successo che può soffocare il seme quando ne è troppa e lì in genere banno banno anche la persona ossessiva che arriva lì sempre con lo stesso tema cento volte sullo stesso posto non lo sopporto su questo secondo me ci sarà un'evoluzione anche delle piattaforme perché non è più possibile cioè all'inizio i commenti erano nati con un'idea diversa c'era meno persone c'era più diciamo un'etichetta adesso tra cinque anni arrivano 4.2 miliardi di persone in più online tu non puoi gestire i commenti del pianeta così devi avere anche è un peccato perché magari nei tuoi commenti hai della gente strepitosa che ti dà magari delle critiche durissime che però dici ha ragione ha ragione però si perde in questo meandro no? caotico sì e poi va detto che in molti casi il commento ti crea comunità cioè le persone che commentano si conoscono entrono in relazione si vedono quando tu fai l'incontro a teatro e nel mio caso si sentono anche meno sole per esempio riguardo una posizione su certi temi politici si scambiano letture cioè mi piace chiaro anzi vorrei di più il facebook che è una piattaforma dove ho oltre due milioni di follower è quella dove sono approdato prima in realtà il mio primo approdo è stato myspace ok e myspace che ai tempi era il top non solo ma io ho visto un all'epoca era uscito come ora se non era 12-13 anni fa e myspace impattò perché io parlavo di libro del mio libro sulla mia piattaforma lì e non era solito era myspace di ordine era soprattutto musica certo e quindi ma io vidi un incremento vidi un incremento che mi stupi moltissimo non c'era nessuno pochissimo gli scrittori che si aprivano l'account io lo feci all'istante e poi da lì arrivò facebook e mi creò un maggiore diffidenza all'inizio perché pensavo che la gabbia simile fosse uno svantaggio invece era stata la forza ricordi ma spesso c'erano quelli che spendevano un sacco di soldi c'erano tutte queste icone un casino colorato invece quel poverino il normale sempre uguale certo e quindi questa cosa è stata superata da facebook dove tu invece hai Beyoncé e il suo follower identico questa cosa invece ho creduto potesse essere uno svantaggio quindi mi apro l'account ma sono più diffidente twitter capisco immediatamente che va a sostituire tutto il dibattito politico le agenzie stampa quando i presidenti iniziano parlano oggi ieri credo sia stato il record di trump che ha twittato cento volte in un giorno però e poi quando appunto si apre instagram anche lì arrivo abbastanza tardi perché cerco di studiarmi bene e poi a volte i posti sono simili a volte no cioè so che su twitter non posso postare la foto che va su twitter su instagram e la comunità le comunità spesso sono differenti certo e i giovani spesso hanno una dinamica diversa di approccio se tu dovessi dire chi ti segue in questo momento cioè chi è il tuo pubblico di riferimento da che età a che età va i numeri che ho studiato per ora mostrano una fascia importante di quarantenni soprattutto donne elettrici grandi elettrici poi c'ho una parte importante di ragazzetti 14 16 18 crime ok che li ho presi per il crime e le elettrici le prendo dall'impegno civile intendo che seguono quel versante lì che può essere l'antimafia la questione immigrati letteratura e poi c'è un pezzo di maschi che segue moltissimo la questione crime che mi prendo dalla televisione anche le elettrici mentre i ragazzini sono esclusivamente youtube piattaforme social ma tantissimo lo vedo quando io faccio cose in televisione che loro non le vedono proprio e lo vedono solo quando posto al punto tale che mi arriva il commento quando io dico domani sarò su Rai 3 quando posti non è che ti vedo non esiste l'idea che mi vado a segnare come se me succedeva così invece io mi ricordo che quando vedevo e c'era Dario Fo io mi segnavo oppure il registratore ti ricordi? vedete la puntata di Baricco dentro che registrivi a tua madre quindi sì è un pubblico una volta ho fatto un intervento in tv e uno ha scritto nei commenti allora comprerò il televisore apposta per dire televisione per un certo tipo di età è incredibile anzi adesso l'hai visto questa notizia stranissima dopo anni di crisi assoluta i televisori stanno tornando per via del fatto che adesso sono smart tv cioè ti vedi il computer in televisione cioè tutte le app e cose quello sta portando di nuovo la televisione a essere comprata perché a un certo punto tutti erano solo sul computer adesso invece con la smart tv ma quando tipo ti fai una foto vedi quanto io sono codardo e paranoico sarei avrei paura di fare la foto e poi magari c'è un dettaglio che rimane dentro e dici ah ho capito dove sei per me non è un problema perché nel 90% dei casi sono scortato ahimè quando faccio quella foto quindi se sono che so a Berlino e si vede sono a Berlino oppure sono a casa mia ahimè ciò fuori dei carabinieri quindi non ho quella paranoia in altri casi se si vede la posto due giorni dopo cioè se faccio la foto ad Amsterdam la faccio che già sono a Malmo ok ok ma sono piccolissime e istintuali precauzioni in realtà non ci sarebbe pericolo in sé perché per la maggior parte del tempo sei protetto e se sei in una città dove non sei protetto significa che la situazione è abbastanza safe cioè hai delle condizioni di tranquillità ma ti capita mai di dire adesso sono in un posto tranquillo vado e mi faccio un giro da solo qui purtroppo non sono mai riuscito a scappare nonostante insomma qualcuno l'ha fatto si continua a fare perché ho troppa paura di mettere che qualcuno mi faccia una mezza foto che sono solo e metto i miei ma selfie ne puoi fare o non si si ah puoi fare selfie queste domande stupide che avranno il senso faccio un sacco una delle cose appunto più interessanti è quando mi fanno i selfie anche quando le persone mi incontrano fanno i selfie una volta ho incontrato una signora non lo dimenticherò mai in aeroporto che mi dice ma tu stai qua sì ma io prego per te per farti uscire da una stanza invece puoi camminare era delusa ok ti voleva chiuso succede anche questo cioè lei dice io mi immagino te soffrire perché anche questo è stato uno degli aspetti più difficili cioè spesso hai generato solidarietà perché ti sapevano in punto di morte certo nel momento in cui magari ti vedono su un palco con molti applausi anche la persona che ti voleva bene inizia a dire ma sarà vero chiaro chiaro cioè insomma questa cosa cristologica per cui il martirio è l'unica prova che quello che stai dicendo è la verità sai che era un pensiero che aggirava nella testa anche del povero Pasolini ma che Falcone ebbe il coraggio lui era un grande intellettuale Falcone al di là del coraggio di giudice era veramente un grande intellettuale un fine conoscitore del potere dell'economia c'è un video veditelo su youtube lui è ad Augas una ragazza tra l'altro innocente fa una domanda semplice che dice ma se lei è vivo chi la protegge è una domanda tosta e lui disse questo è fa vedere questo l'Italia è il paese felice dove solo se muori quello che hai detto è vero certo è la prova e tanto lui lo scrive in un carteggio privato a sua sorella quando sua sorella dice salvati difenditi da queste accuse perché non so se ti ricordi quando trovarono una sacca piena di tritolo sulla scogliera di una villetta che aveva preso in fitto alla Daura tutta Italia ma tutta Italia disse se l'è messa da solo figurati se la mafia ti avverta la mafia ti ammazza o non ti ammazza e ti avverte lasciando il tritolo su quindi tutti era l'autoattentato di Falcone per fare carriere e diventare procuratore di Palermo e quando vai agli eventi non hai paura di dire oh è qua arriva quel giorno lì cioè è proprio ci diamo appuntamento sì certo si può fare perché come succede anche per tutti gli scortati da un presidente arrivano e fanno bonifiche bonifiche una volta era stata la cosa più assurda una volta ti racconto questo episodio è divertente arriviamo in una libreria c'era Charlie Charlie per un lungo periodo è stato il mio cane anti-bomba quindi giravo a un certo punto Charlie arriva e si siede quando il cane anti-bomba si siede come cazzo è un brutto segnale se si siede significa trovato quindi l'artificiere è strano quindi l'autorizza ad alzarsi rifacciamo il giro dai giochiamo si risiede un'altra volta io morivo di infarto cioè io steccavo al volo appena Charlie era seduto andato tu pensa tutti fuori anche perché le persone in fila non le avevano fatte entrare quindi fanno uscire tutti i dipendenti tutti fuori arrivano gli artificieri questa Charlie si è seduta vicino a un motorino fuori da una libreria che cosa strana l'artificiere tanto mi ricordo cioè il padrone di Charlie che fu molto severo perché la mia scorta disse diamo un'occhiata no no se il cane si è comportato così c'è esplosivo ma può essere la mia scorta era così fuori da una libreria ma non può essere c'è arrivano gli artificieri smontano questo motorino c'erano dei guai di una persona che lavorava in cava quindi aveva la polvere epilica sui guanti non era niente però Charlie l'aveva sentito però grande Charlie e Charlie è andato in pensione è andato in pensione sì perché loro vanno in pensione giovani perché giocano e quindi quando il cane invecchia e io sono appassionato sia di cani antidroga che di cani antibomba c'è la leggenda che li droga no no non è così quando il cane antidroga il cane antibomba inizia a maturare si non prepara di giocare quello è un gran gioco quindi mano mano matura in genere non per tutti lui era un pastore belga si è insomma adesso in pensione un'altra domanda stupida puoi anche non rispondermi ok però ti ho qui e quindi non posso ho tutte queste mie curiosità perché dico anche per alleggerire un po' perché se no sono sempre argomenti fondamentali importanti ma sempre questo peso quindi non ti voglio ulteriormente pesare che dici ho parlato con Monti che due coglioni dopo un po' però ma ogni tanto avrai voglia di avere un rapporto personale no? e dici ok magari una fidanzata una moglie qualcosa insomma tutto deve essere fatto tutto deve essere fatto molto come fai? molto diciamo clandestinamente nel senso che deve esserci della prudenza perché se no chiacchiera e già ti viene affibbiato ogni tipo di succede quando sei pubblico ogni tipo di persona che incontri diventa la tua fidanzata diventa la tua amante diventa Giuliana Assange aveva Pamela Anderson che andava lì in ambasciata poi nessuno lo sa il meccanismo diciamo di tutela della propria vita privata è complicato nel mio caso ma in genere quando sei pubblico perché devi tutelare quella persona ma la cosa più incredibile di tutte non so per esempio su di te come funziona è che per esempio all'inizio adesso non più ma all'inizio mi dava un sacco fastidio la la fesseria cioè ti attribuivano venti fidanzati o venti amanti in realtà dovevi riderne ma io non ci riuscivo o perché c'era l'aspirazione la risposta era magari potessi essere così libero o perché c'è un modo e questo è interessante subdolo di delegittimarti anche quello cioè mentre in un'altra situazione dire che sei un Casanova un Don Giovanni e farti un complimento non nella società un po' sussista macista diciamo con me o comunque o con l'interno è un modo per dire ma chi quello fa il martire ma se la gode se la spassa certo quindi il gioco è Gabo Marquez era grandissimo Gabo Marquez Marquez rispose in questo modo una volta scrisse deve esserci un sossia che va alle feste si compra viglia e che è pieno di amanti vi prego presentatemi dimmi un libro che suggeriresti per avere un'interpretazione oggi della realtà più accurata o un'analisi quando uno dice io vedo i miei figli più piccoli a scuola in Inghilterra c'è la lezione di senso critico che a me piace molto come concetto ti insegno a un ragazzino a dire ok devi avere un senso critico analizzare le notizie qual è la tua valutazione c'è un libro o un suggerimento guarda mentre me lo stai chiedendo mi è venuto in mente Errore di sistema di Edward Snowden con cui tra l'altro ci ho fatto una chiacchiera online si può trovare dall'articolo che ho scritto ci siamo sentiti con un finale terribile dove Snowden chiosa chi di noi due morirà prima però ci ha portato fortuna è stato un bellissimo incontro Errore di sistema di Snowden che tra l'altro ha un altro titolo in inglese è veramente un racconto splendido perché lui ci mette dentro anche i suoi errori lui da ragazzino era un hit soprattutto videogame aveva dei nomi da suprematista giocava cazzeggiava con un frasario razzista e lui questo mette tutto nel libro e lui il suo primo e che raggio lo fa con gli orologi di casa per andare a dormire più tardi fa tu cambia l'orologio del microonde l'orologio di casa lo mette due ore indietro e poi inizia a bucare i siti perché dico che bello perché racconta come il web nasce esattamente come succedeva con i territori scoperti o meglio scoperti conosciuti dall'occidente negli Stati Uniti arrivavano il gruppo di fricchettoni arrivavano i quaccheri quindi arrivi lì e dici qui non c'è potere vince l'amore l'eguaglianza ma se non c'è legge a un certo punto arriva quello che picchia di più comanda e il web è stato uguale terra vergine quindi arriva il libertarismo la condivisione poi iniziano ad arrivare quelli che c'hanno il grano e quelli che c'hanno il potere e dominano Edward in quel libro racconta il perché dire se non ho niente da nascondere bene che mi spino sia una cazzata perché significa che il potere può arrivare a manipolare qualsiasi informazione questo per esempio alla tua comunità è interessante dirlo e comunicarlo cioè un'informazione su di sé non un reato privata per rovinarti la vita per rovinarti un'informazione privata vuoi tenere con te dei dubbi che stai avendo sull'esistenza di Dio un commento tu immagina se viene pubblicato un commento su tua madre che fa mentre sei nervoso quella stronza di mia madre tua madre se lo legge la distruggi ma tu hai detto una fesseria una cosa è come dire se sono in bagno faccio le mie cose semplicemente non sto facendo niente di male devo fare le mie cosettine però non voglio che sia pubblica quell'immagine esatto successe anche a Kissinger una cosa del genere era su un aereo c'era un giornalista invitato come con altri a intervistarlo durante il viaggio Kissinger va in bagno credo frigidera america questo entra aveva all'epoca una macchina fotografica qui apre lo fotografa aveva precedentemente manomesso la porta del bagno fa la foto e questa foto la scena blocca dovevano semplicemente pubblicare Kissinger che i pantaloni abbassati stanno facendo cacca non è un reato non è neanche una cosa ma quella foto cosa comporta che ogni volta che vedi Kissinger vedi lui seduto sul cerale pensi che il tema della totale trasparenza del intercettateci tutti così in realtà è semplicemente contrario al fatto che la tua privacy ci deve essere è come dire se io sono Martin Scorsese io voglio fare un film e ti voglio far vedere questo film non è che dico no allora tu Martin Scorsese mi devi far vedere tutte le immagini che riprendi durante il film il dietro le quinte ma che cazzo il ragionamento è fammi vedere quel tipo di contenuto poi se ci sono aspetti illegali quello è un altro discorso però la tua privacy è importante devi essere libero di decidere che cosa ma anche perché ci sono delle parole e delle scelte tu pensa che cosa che cosa è dentro una dinamica di relazione hai delle parole in codice hai delle giocosità che appena uno sguardo terzo posa gli sembra una cosa o sembra un imbecille o sembra una coppia di pazzi ci sono degli aspetti che pretendono privacy perché possono essere solo comprese e letti dentro quella dinamica poi c'è anche un'altra questione per esempio a casa quando sbraghi dici un sacco di fesseri quando per esempio dicono eh però tu hai usato la parola frocio ricchione e non l'hai usata in pubblico quando l'hai spesa sbagliando in privato l'hai spesa probabilmente sapendo di non ferire nessuno o gli astanti hai potuto chiedere scusa se la dici in pubblico ferisci come puoi chiedere scusa all'intera comunità e torniamo al fatto che ti hanno i loro lati di imperfezioni di momenti di momenti di debolezza invece c'è questa immagine no della politica il politico perfetto ha sempre le risposte o anche appunto penso l'altro giorno mi chiedeva ma secondo te Zuckerberg cosa dovrebbe fare in tutto questo casino la mia risposta è molto semplice cioè non è mai esistito nessuno lui o altri che abbia fatto una piattaforma con due miliardi di persone su la prima volta è una storia quindi loro non lo sanno anche loro non sanno come gestire però non possono andare in borsa e dire ragazzi non sappiamo che cazzo fare lo scopriremo faremo degli errori ci sarà un sacco di casini però intanto ci proviamo no devono dire non c'è problema è come quando capito Trump va su dice faccio il muro a posto sistemo tutto e vai quello ti dà fiducia se invece metti davanti la realtà questa narrativa non funziona è così prossimo libro che farai cambia argomento forse sì scriviamone uno insieme non so di non so di ping pong ping pong sarebbe più fighissimo oppure potremmo fare il partito del pelato io stavo pensando di lanciare questa questa nuova elogio della calvizia quello sarebbe un colpo no hai già un'idea o sei ancora nel vortice no sono nel vortice adesso sto lavorando una graphic novel sulla mia vita oh ok e la sto disegnata insieme da Asaf Anoukha non so se hai visto Valtzer con Bashir è un film bellissimo israeliano è un fumettone è una grafica e disegnerà lui la mia vita e mi sta è una cosa forte la graphic su di sé bello bellissimo un bel viaggione ho aperto un boccalupo grazie mille grazie grazie mille grazie mille